70 centesimi, ma non puoi fare un euro, Maria Scusa! Ma che scusa? 70 centesimi! Non farò un euro! Ma che dici cosa tu di me? Una bella carta con nome! Allora? Una bella carta! Te la do? No, è un'altra bella! Sicura Maria! Non è bella! E' manco di chi! 50 centesimi! Quale Maria? Ancora vado! Maria Terrovini! Ma che dici? Quattro, cinque! Non è un consulto familiare questo! E' cugine! Che ti interessa? Ma che è un consultore familiare? E' giusto! Io mi fermo bene qua! Io mi fermo bene qua! Non l'ha messo ancora! No, ancora non si sa! Non lo perdiamo! Spero non lo perdiamo! Vado io? Vai, vai! Gira quella carta! Mamma mia! Vado io! Se lei ha cinque e mezzo cuore! Io c'ho cinque cuore! Devo andare per forza ora! E c'ho cinque e mezzo pure io! E mi fermo qua! Vado avanti! Vado avanti! Divorcio! Chiamatemi l'avvocato! Ciao! Ciao! Ciao!